Buonasera cari telespettatori di Sela TV, ben ritrovati a questo spazio dedicato all'informazione. Andiamo a vedere subito quali sono i titoli principali della giornata dove c'è tanta cronaca. Si aggrava la posizione del 26enne di Mozzo che ha aggredito il fratello maggiore, oggi deceduto in ospedale, l'accusa di omicidio. Si sente male durante un'escursione a Carona, muore 65enne. Protesta della polizia all'aeroporto, servono più agenti, a rischio la sicurezza dello scalo. Pochi giorni ai saldi, ma intanto il centro città si spopola di negozi e già i primi abusivi segnalati dalla polizia. Matteo Solforati, il nuovo allenatore del Volley Bergamo 1991, si presenta. Ambizione, entusiasmo ed esperienza. Si aggrava la posizione del fratello minore che ha ucciso, ormai è chiaro ed evidente perché è morto oggi il fratello maggiore, dopo una lite avvenuta a seguito di una serata ad alto tasso alcolico in discoteca, sfociata poi in una violenta lite a casa a Mozzo. La posizione appunto ora è quella di omicidio. Gli inquirenti hanno scelto la strada del massimo riservo, non trapelano nemmeno i nomi. Ancora una volta un disagio familiare si è trasformato in un'immensa tragedia. Due fratelli, uno è morto in rianimazione, le condizioni erano parse da subito disperate, l'altro rischia il carcere per omicidio. La vittima è il maggiore, con problemi comportamentali, già seguito da un centro psicosociale di supporto. Il minore, uno studente che aiuta la famiglia con qualche lavoretto. Entrambi vivono con la madre nella periferia di Mozzo. Sabato sera erano in una discoteca di seriate. Il 31enne, con ogni probabilità carico d'alcol, discute animatamente con un avventore, forse per l'approccio ad una ragazza. Interviene il fratello che vuole evitare guai e, secondo la ricostruzione fatta dagli avvocati difensori, rimedia subito un pugno. Sono le quattro e mezza di mattina, i due tornano in macchina con altre persone e il litigio continua fino a casa, dove li attende la madre. Inizia la collutazione che arriva fino alle mani intorno al collo del fratello più grande che sviene. Nessun trauma cranico, come era sembrato dalle prime notizie, ma arresto cardiocircolatorio. A quel punto la chiamata al 118 e i tentativi di massaggio cardiaco assistito, operato dallo stesso aggressore. Davanti al giudice per le indagini preliminari, il fratello, accusato di tentato omicidio, ha dichiarato di essersi solamente difeso. Ci sono testimoni e in più le dimissioni dal pronto soccorso con un naso rotto ed una prognosi di 30 giorni. Per ora gli arresti nel domicilio restano. L'accusa sarà riformulata togliendo quel tentato e lasciando purtroppo l'omicidio. Resterà da determinare se compiuto per legittima difesa. Ancora una tragedia in montagna nel pomeriggio di oggi intorno alle 16. Vittima una 71enne che si è sentito male mentre stava camminando nei pressi di Carona. Sono subito scattati i soccorsi, intervenuti l'elicottero, il soccorso alpino, un'ambulanza e i carabinieri di Zogno per i rilievi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ed ora ci spostiamo in stazione a Bergamo perché dormivano, mangiavano, bivaccavano, prendevano i viveri a bordo del treno Frecciarossa fermo in stazione a Bergamo. Tre senza tetto sono stati arrestati. Il convoio Frecciarossa usato come camera d'albergo, ma non solo alloggio, è compreso anche il vitto. Ad approfittarsene un gruppo di persone, tre delle quali sono state identificate e denunciate. Il treno arrivava nella stazione di Bergamo alle 23.40. A quel punto, forzando una delle porte, manomettendo la valvola dell'aria compressa, i soggetti entravano nella carrozza e bivaccavano fino alla ripartenza del convoglio, prevista per le 5.40. A riprendere il via vai le telecamere di sorveglianza della stazione. Gli agenti della Polfer, visionando le immagini, hanno evidenziato che alcune delle persone riprese all'uscita del vagone avevano con sé vistosi sacchi e ricolmi di oggetti, che poi, si è capito, fossero cibo e alcolici sottratti dalla carrozza bar del treno ad alta velocità. Uno dei soggetti identificati è un libico classe 1995 e già destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emanato a marzo del 2023. Su di lui grava l'accusa di aver commesso in soli tre mesi ben 12 reati, tra furti, rapine e lesioni. L'autorità giudiziaria ha emesso il mandato di cattura e l'uomo, ancora nei pressi della stazione, è stato arrestato e portato in via Galino in attesa del processo. Torniamo ora sulla vicenda dell'imprenditore di Mapello, Polese, che è stato trovato in possesso di un grande tesoretto da diversi milioni, accusato di una truffa milionaria, ma per lui anche altri precedenti. Roberto Polese, per gli amici Bobby, nel 2014 era già stato arrestato per reati tributari, usura, estorsione e ricettazione, nell'inchiesta denominata Principe. In quel caso si ipotizzava anche la vicinanza all'andrangheta. Le ditte fittizie producevano fatture false e non pagavano un euro di tasse, quindi lavaggio del denaro con una rete di aziende complici e poi fallimento programmato, con la distruzione dei documenti contabili. Anche allora vi fu il sequestro di immobili, auto di lusso e soldi incontanti fino a 5 milioni di euro. Fu condannato, ma dicono i legali, per una parte sola delle accuse. Il tempo passa ma il vizio resta. Nella villa di Martinengo la Guardia di Finanza ha trovato 2.584.000 euro in contanti degli 80 sequestrati. Altra passione del Polese sicuramente gli orologi. Una quarantina, tutti di grande valore, non un reato se di provenienza giustificabile, ma il pubblico ministero ha fatto notare l'enorme differenza tra il lusso e il reddito dichiarato, insieme alla moglie, di 235.000 euro lordi. Poi lingotti d'oro e monete preziose, un vero e proprio tesoro. Per gli inquirenti la modalità era sempre la stessa. Ben 21 società cartiere, fatture false, rimborsi fittizi, evasione dell'IVA e autoriciclaggio dei soldi in paesi esteri di mezzo mondo. complici la moglie e il fratello Rinaldo, che attualmente è latitante negli Emirati Arabi. Per Roberto Polese è tutto un equivoco. I soldi vengono da proventi leciti, ha dichiarato nell'interrogatorio, ma il giudice ha convalidato l'arresto ed ora è custodito in carcere. All'aeroporto di Oriol Serio, ora dove questa mattina hanno protestato i poliziotti perché dicono di essere enormemente sotto staff. Una situazione che va avanti da anni e che adesso è diventata insostenibile. La sicurezza dell'aeroporto di Oriol Serio è a rischio? Secondo gli operatori di polizia che prestano servizio nello scalo aerobico, sì. E il problema è un grave sottodimensionamento dell'organico. Mentre alla Caravaggio transitano 15 milioni di passeggeri facendone il terzo aeroporto del paese per traffico, i poliziotti sono 150. Malpensa con un transito di circa 20 milioni conta quasi 500 unità, il triplo della forza disponibile. Per questo stamattina il fronte sindacale di categoria si è unito in protesta. Noi temiamo veramente per la sicurezza della frontiera aerea di Oriol Serio. L'aeroporto è una zona di frontiera e la zona di frontiera deve essere monitorata. Deve essere monitorata con controlli specifici. E i controlli specifici richiedono alta professionalità ma soprattutto richiedono un numero congruo di operatori di polizia. Chiediamo un aumento strutturale dell'organico fino ad arrivare a 200 persone. Quindi chiediamo che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza valuti la possibilità di mandare almeno 50 poliziotti in più. Gli agenti lamentano indifferenza da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I nuovi inserimenti previsti non risolvono la carenza di personale ma addirittura non compensano i pensionamenti rendendo di fatto sempre più complessa la gestione del lavoro. Sabato scorso denunciano si è toccato il culmine. 2000 passeggeri in arrivo in contemporanea in 14 voli atterrati in due ore con attese per i controlli che si sono protratte dalle 21 a mezzanotte e mezza. Gente accalcata in spazi inadeguati con conseguenti malori e svenimenti. File interminabili dove i colleghi spesso sono costretti a subire insulti, ingiurie da parte degli stessi passeggeri che erroneamente adebitano la colpa ai pochissimi colleghi in servizio che tra l'altro non usufruiscono neanche delle pause che sarebbero comunque previste durante il turno di lavoro. Siamo sempre più costretti a vedere passeggeri che non riescono a prendere il loro volo a causa di queste code. E noi siamo l'unico aeroporto tra i principali in cui tutti gli operatori sono costretti a svolgere anche nello stesso giorno e a volte anche spesso contestualmente sia operazioni di sicurezza che la gestione dei controlli documentali dei passeggeri che attraversano le frontiere sia in arrivo che in partenza. E proprio anche grazie all'aeroporto di Oriol Serio il turismo a Bergamo vola. Non solo i dati del primo semestre sono molto positivi ma anche le previsioni della seconda parte dell'anno fanno sperare e ben vedere verso un anno da numeri record. Bergamo è definitivamente una meta ambita dai turisti italiani, europei e anche intercontinentali. I primi sei mesi del 2023 sono andati a gonfie vele superando le aspettative degli albergatori che già pensavano di aver vissuto un 2022 da record storico. Il 2022 è stato un anno molto positivo, eravamo fiduciosi che sarebbe andato molto bene ma non avremmo scommesso che l'onda lunga si sarebbe protratta nel 2023 invece siamo stati positivamente sorpresi da questa cosa. Inutile non pensare all'effetto capitale della cultura. Quanto ha inciso l'evento? Sì, l'effetto capitale della cultura c'è per ora, è ancora abbastanza marginale ma i segnali sono comunque molto positivi. Si attendono i turisti italiani che dovrebbero arrivare tra luglio e settembre. Intanto ci si affida agli stranieri ed è un bel tesoretto. I turisti stranieri in questo momento rappresentano abbondantemente più del 60-65% delle camere che vendiamo o comunque degli arrivi. Sono comunque tutte persone che arrivano dalle rotte del nostro aeroporto. E per l'estate che aspettative ci sono? Bergamo ormai è una destinazione adatta anche a questo periodo. Speriamo di replicare l'estate dell'anno scorso che è stata un'estate molto molto positiva e in questo momento i presupposti ci sono. Credo non solo per la città ma un po' per tutta la provincia anche per le nostre valli. Non ci sono buone notizie invece per il commercio cittadino. Pochi giorni dall'inizio dei saldi sono diversi i negozi che in centro città chiudono i battenti. Secondo Ascom è una crisi generalizzata del settore dell'abbigliamento e degli accessori. Il centro di Bergamo perde pezzi. Dopo Zara e Trussardi via 20 Settembre viene toccata da un'altra cessazione di attività. La boutique multimarchio Dev, Tots, Hogan e Fei, i marchi di Diego della Valle, chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 15 luglio. Una situazione difficile soprattutto per il settore abbigliamento e accessori che in provincia di Bergamo conta quasi 2000 punti vendita e risulta al momento sovradimensionato rispetto alla domanda dei consumatori. È una fase sicuramente difficile ma lo è prima ancora che nel centro cittadino del settore. C'è il settore abbigliamento, calzature e accessori. Non è solo di Bergamo, è comune a tutta Italia, a tutti i centri storici e lo è anche per i centri commerciali. Cioè concettualmente c'è stato un cambio di stile di consumo delle persone. Le persone oggi preferiscono uscire di più a mangiare e bere, preferiscono fare vacanze e spendono bene nel vestirsi e quindi questo ha portato di fatto a mettere in discussione una rete di esercizi e una tipologia di offerta che probabilmente era adeguata a uno stile di consumo di qualche anno fa, non lo è più oggi. Secondo Ascom Bergamo, il centro storico ha comunque la capacità di rigenerarsi molto velocemente. Trussardi è già stato sostituito da un negozio di cover e accessori per smartphone, just in case. Al posto di Zara subentrerà giochi preziosi e già si parla di una grande gioielleria che troverà sede negli spazi di Cornali. Una fase transitoria non positiva ma noi pensiamo che in prospettiva i centri storici sapranno richiamare sempre di più persone e quindi anche persone che comprano. E ancora non è iniziato appunto il periodo dei saldi che partiranno ufficialmente il 6 luglio in Lombardia ma già alcune attività vendono merci a prezzi scontati contro la normativa e anche contro le indicazioni che le associazioni dei commercianti hanno lanciato nei giorni scorsi. La Polizia Locale ha avviato controlli mirati per contrastare il fenomeno dei saldi abusivi e sono state diverse le segnalazioni pervenute al comando da parte sia di cittadini ma anche di commercianti su situazioni non in linea con i regolamenti. Non è possibile infatti avviare promozioni nei 30 giorni precedenti i saldi. Sono state 5 finora le sanzioni elevate dagli agenti della Polizia Commerciale per inosservanza di questa specifica regola. La sanzione per i trasgressori è di 1000 euro. Ed ora vi presentiamo Torre Gentile una realtà bergamasca per promuovere la gentilezza ed è un'opportunità davvero per tutti. Si chiama Torre Gentile ed è una nuova associazione di carattere nazionale costituita a Torre Boldone che intende avviare buone pratiche di condivisioni di saperi a beneficio di chi desidera imparare, conoscere, apprendere, trovare ispirazioni. Ma come funziona? Chiunque sia consapevole di possedere un talento, una conoscenza, una professionalità può rivolgersi a Torre Gentile per proporre un progetto che coinvolga altre persone ottenendo dall'associazione il marchio e l'aiuto per far partire il tutto. Tutto dipende dal progetto che si vuole realizzare. Un esempio sul quale stiamo lavorando è la creazione di un manifesto per bambini dove vengono indicati 10 consigli utili di comportamenti gentili. Il simbolo dice tutto. Una torre pendente come quella di Pisa è in grado però di trovare il proprio equilibrio. Questo è l'obiettivo di Torre Gentile che non vuole contare i suoi aderenti ma far contare tutti coloro che parteciperanno al progetto in modo da comprendere il proprio talento e unicità. Le progettualità in fase di sviluppo sono l'editoria gentile, la danza gentile e anche il convenzionamento a titolo totalmente gratuito di attività anche commerciali che riconoscono il valore dell'unicità della persona come elemento distintivo del loro fare impresa e tra queste c'è già la pizzeria Pizza di Bergamo il cui staff è veramente composto da persone speciali. Grazioli ha ormai maturato esperienze in quell'assessorato così originale che è quello della gentilezza e traccia un bilancio positivo dell'idea. Incontra sempre più gradimento dei cittadini e anche lì ci saranno sorprese visto anche il riscontro positivo che hanno avuto l'iniziativa dei parchi gentili per la promozione della parità di genere. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria ci ritroviamo tra poco per la cultura con il Desidera Festival e lo sport con il Volley Bergamo e l'Atalanta. Restate con noi. Ben ritrovati nella seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la cultura parte il Desidera Festival che quest'anno arriva alla ventunesima edizione e la chicca di quest'anno è una passeggiata shakespeariana e una grande festa finale in città alta. Apre i battenti ad estate inoltrata la ventunesima edizione di Desidera Bergamo Festival tra grandi nomi e sperimentazioni teatrali all'insegna dell'arte e della letteratura. Si comincia ufficialmente il 6 luglio con un evento speciale dedicato a Michelangelo Merisi e si prosegue sulla scia della Luna e i Falò di Cesare Pavese interpretato da Luigi Delia se è una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino che compie cent'anni Pinocchio confidencia l'interpretato da Lella Costa per citare solo alcuni eventi. Comincia a Desidera la prima data è il 6 luglio prossimo avventuro con Caramaggio di Luigi Delia e poi a seguire 31 date e visiteremo davvero tutti i luoghi della provincia Cergamasca dalla pianura dalle valli dalle poline circostanti Un teatro diffuso nella migliore tradizione di Desidera che quest'anno avrà la sua punta di diamante nel progetto speciale di Maurizio Donadoni. Il 15 e 16 luglio Città Alta ospiterà infatti una grande passeggiata shakespeariana che culminerà in un grandioso spettacolo finale scandito dalle note del campanone nel chiostro di San Francesco. Voltiamo pagina ora lo sport parliamo del Volley Bergamo 1991 che ha presentato il suo nuovo coach è Matteo Solferati marchigiano 41enne che si racconta. 41 anni originario di Pesaro Matteo Solferati è la nuova allenatore del Volley Bergamo 1991 il tecnico marchigiano lo scorso campionato sulla panchina di Mondo V sarà capo dello staff rosso-blu con a fianco il vice Alberto Bigarelli proveniente da Chieri. Al primo impegno in A1 Solferati si porta un bagaglio importante di 11 anni da primo allenatore e guarda la stagione 2023-2024 con la giusta carica e ambizione. Siamo uno staff sicuramente giovane con molto entusiasmo e molta voglia di mettersi alla prova ma credo anche per la squadra tante giocatrici in rampa di lancio che vorranno sicuramente ben figurare e trovare i loro spazi per dimostrare il loro valore sono un allenatore che cerca di adattarsi alle giocatrici che ha e di essere utile per farle rendere nel miglior modo possibile penso che sia importante portare in palestra serenità e tranquillità credo che sia una delle mie caratteristiche principali e ovviamente dovremmo divertirci perché abbiamo la fortuna di fare di una passione e un lavoro e quindi sarà un'arma determinante e l'altra cosa l'entusiasmo e la voglia la fame di arrivare credo che sia un bello stimolo è una cosa che tutto lo staff trasmetterà alle ragazze anche se sono convinto che non ce ne sarà bisogno perché è la stessa fame che hanno loro e l'obiettivo è quello di confermare l'ottima l'ottima stagione l'ottimo risultato raggiunto l'anno scorso con il raggiungimento dei playoff poi e poi il campo dirà se è possibile fare qualcosina di più giocare a Treviglio allenandosi in due palestre a Bergamo come sarà ce lo spiega con una battuta sicuramente è un grosso dispiacere personalmente non poter godere del palazzetto del palazzetto di Bergamo Treviglio è assolutamente una struttura oggettivamente anche direi più bella è un vero palazzetto nuova la cosa la cosa che non ci avvantaggerà almeno inizialmente sarà il fatto di non poterci allenare sempre lì ma d'altra parte il vantaggio sarà che quando andremo in trasferta soffriremo di meno il mal di trasferta visto che più o meno ci abitueremo a giocare quasi sempre in trasferta in chiusura una notizia sull'Atalanta perché Giorgio Scalvini e l'Atalanta sembrano destinati a continuare almeno per ancora un anno insieme arriva infatti la notizia dell'adeguamento contrattuale per il difensore neroazzurro Scalvini passerà da 200 mila euro a 500 mila euro annui per la sua cessione l'Atalanta non fa misteri possibile ma solo con offerte adeguate dai 40 milioni in su al momento solo timidi interessamenti ma nulla di concreto soprattutto dall'Inghilterra altrimenti resterà un altro anno a Bergamo sotto la guida di Gasperini Quale tempo ci aspetta nelle prossime ore sui cieli di Bergamo e di tutta la Bergamasca lo scopriamo con Trebi Meteo Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì transiterà una perturbazione sul centro nord Italia che porterà un peggioramento anche piuttosto diffuso con il ritorno di pioggia equazioni e temporali più nel dettaglio quindi della Lombardia avremo una giornata perturbata con molta nuvolosità fenomeni anche a carattere temporalesco occasionalmente di forte intensità con associato un calo delle temperature osserviamo nel dettaglio la provincia di Bergamo dove la giornata sarà instabile anche qui con fenomeni temporaleschi più probabile nel corso della giornata in pianura ma non escusi anche in montagna con associato un calo termico nel corso poi di sabato la situazione andrà migliorando anche piuttosto velocemente con il ritorno del sole un clima più asciutto e una ripresa delle temperature nel corso del weekend infatti nella giornata di domenica avremo ancora una situazione di stabilità con sole protagonista ma poi nella nuova settimana la situazione potrebbe ritornare a peggiorare per tutti i dettagli però continuate a seguirci sull'app di Trevi Meteo non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione io vi ringrazio di averci seguito fin qui e rinnovo l'appuntamento con Seila TV News per domani alle 19.15 vi auguro una buona serata e vi ringrazio